Ehi magliette, come al solito. Mattei? Ciao, ci stiamo. Ci stiamo. Ehi, ci stiamo, beh. Comunque tocca che te fai in giocatore alto, Mattei. Almeno te. Eh, infatti voglio cambiare il personaggio che fa. Però non capisco come... Cioè, Arciavina, non segna. Non segna, si mangia la napas. Tiè. Non me la passate. Ci sono. Devo cambiare il modulo, me l'ho scordato. Oh, dai, quanti quello che vuoi fare? Un paio. Ti faccio qua. Oh, che sveglia, te parco. Bello. Ma come hai idea, ma te? Sì. Ok. Tira. Bellissimo. Guarda che ha preso questo. No, vabbè, dai. Ma non mi ha tirato subito. Eh, te credo. Sempre così, eh, porco. Sto cazzo del... del... del pro club. Go. Che bello, Fifa. Il miglior gioco dell'anno. Arbitro, mi ha fatto male. Guarda, questo è all'indietro, sì. All'indietro, mi ha andato. Ma il mio pure te la mettero, ce l'ho davanti alla difesa, il mio. Sì, fatti i campi, la resa e poi... Sì, stanno a guardare. No, non ci posso andare io, ci devi innattevole. Per capitale ci sono una ricca. Fuori gioco. Oddio. Oddio, ma stavo da pure un attimo prima, però... Vedrà comunque... Questo c'ha la promozione del Barcellona. Abitano, pugnano. S'assumano tutti, poi. Lo compriamo per il kebab, perché... Io, Simone, e Alessio... E' un camore, so, eh. Non mi ha distratto il male, ragazzo. Eh, sì, colpa tu. Signora, per cortesia. Eh, per cortesia, ragazzo. Il limone, signora. Ti è? Eh, no. Or... Guarda, guarda Totti, che non va dove deve andare. Comunque, è un problemone proprio il movimento dell'avatar, è un problema. Ancora movimento il letto. O ci facciamo alto, 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 o basso. Eh, ma alza troppo lenti con tanti, 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 eh. E' importante che adesso avvicarci l'angolo, che ne abbiamo un botto. Ricorda. Guarda, che ha preso. Ricorda. No, ma non voglio fare, lo vedi? Loro fanno due passaggi e fanno porta. Tutti, tutti. Mamma mia. Ok. Dai, non ci vediamo. Dalla domani. Dritto, dritto. Sì, sì, è così tanto ormai. Ma non è un po' più. Ma non è un po' più. Ma non è un po' più. C'è un cazzo da faccio. Lo vedi. Niente. No. Eh, eh, ui. Che devi fare? C'è uno più che spigna i bottoni, che deve fare? Ma perché non mi spossa al portiere? C'è, i giletti lo spostano. Ma a me il programma me lo fa spostare. Vai su personalizza le impostazioni e metti assistito su tutto. Eh, quello ce l'ho già. Eh, quello ce l'ho già. Eh, questo era un periodo che non perdiamo mai. Ah. Cerede, stiamo in decima divisione. Eh, eh. Giusto. Eccolo. Ah, va bene, sti palloni. Bello. Mettila sta cazzo di palla. Eccolo. Barsavi. Eh, hai Sto 1,53m, Dio. Bravo. bravo si è non la passa non la passa sono di legno sembrano tutti geco bella la cazzano pure e mezza bravo 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 serve network ragazzi prendiamo un po' vale tocca cambiare modulo cambiamo il modulo bravo 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 e levate stupida niente oh mamma mia porco giuro tira non c'è ma non tira dai che c'è staccavi in cazzo bravo guarda guarda si per tenere pallone va dritto va dritto incrociata sinistrata tutti di ripiani i piani forti i piani forti nooo ho caricato ma non ti da manca il tempo di tirare ma che è? ma che cazzo è? non ti da il tempo di tirare? c'è tocca perdere gli scarsi va qua oh ragazzi non gioco più io ho capito la passina la passa e dai e dai eh tiri non tiri go ma pure per nebbe con altra squadra però ah è scattare sì dritto per dritto passano tutti tranne io c'è raga quei palli credito a un passo c'è raga 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 non vedi la presa oh oh guarda 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 c'è raga fermato proprio c'è bello ah che sa nooo era bella bella tozza il pallone ah è vabbè ma è vabbè sì vabbè da paranotte paranotte e il gira lino no il che felici non a caso eccolo Vincenzo bene ottimo guarda guarda ma le cose che cose fa con l'altro vabbè ma questa è andata così guarda guarda lì tutte così o no tutte le dite no un caso vero caso per me il gioco wow con l'excesso capito mamma niente continua che devo fare siamo il 3 a 0 faro e sciata faro e sciata è fattura solo vai un altro giro altra corsa